Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Davide De Vito Questo nuovo video non è un solito video tutorial, ma è un video dove vi voglio mostrare una mia invenzione che ho fatto qualche giorno fa E che vorrei condividere anche con voi Allora, a prima vista non è molto curata Infatti nell'aspetto non è una cosa molto bella da vedere Questa qui è una barchetta, come vedete una barchetta in polissirolo che ho fatto Dove ci ho attaccato qualche aggeggino È una barca a vapore, infatti funziona con una produttrice di vapore Messa in acqua, poi comunque galleggia e va Andiamo a vedere nel dettaglio cosa abbiamo Qui ho preso una lattina, l'ho smontata e ci ho creato una piccola camera Come vedete è una camera sigillata dal silicone Con poi due cannucce attaccate Ecco, quindi andrò a mettere dell'acqua qui all'interno Metterò una candela qui sotto, proprio così Accendendo la candela, che produce calore Farà vaporizzare l'acqua Che uscirà quindi dall'unico buco che ha a disposizione Cioè le cannucce Creando piccole spinte Che daranno vita a una specie, tra virgolette, di motore Quindi questa barchetta, questa semplice barchetta Che si può fare con materiali assolutamente comuni, domestici Che si trovano dentro casa Infatti io non ho dovuto comprare niente E niente, l'ho sigillata con del silicone Perché deve essere una colla che sigilla e che al calore tiene Il silicone al calore tiene, quindi è perfetta Poi nel prossimo video che farò La metteremo per la prima volta in acqua E vedremo proprio se funziona Sono stati... Ho fatto dei calcoli precisi Sulle dimensioni E sull'acqua che dovrò mettere qui dentro E dovrebbe funzionare Quindi ragazzi, buona giornata a tutti quanti Grazie della visione Se vi è piaciuto questa mia invenzione Mettete il mi piace Iscrivetevi E quindi ci vediamo nel prossimo video Dove...